Go Go Perusa! È famosa nel mondo per il suo cioccolato e per l'Eurochocolate! Una manifestazione totalmente dedicata al cioccolato! Cioccolato slurp! Ehi! Ma dov'è finito, Zed? All'abrio! Mi stanno robando tutta la mia cioccolata! Ops! All'abrio! Ehi! Mi sono fatto in quella bruncola verde! Cioccolata! Buonissima! Io recupero l'alieno! Tu, vaga la repurtiva! Io cosa? Oh no!